Quale sviluppo per l'Irpinia? CGL e Will illustrano le loro proposte per le politiche di coesione 2014-2020. Al carcere borbonico la discussione tra sigle sindacali, amministratori e operatori del settore. Per tornare a crescere è fondamentale intercettare le risorse dei fondi strutturali ed investimento europei con progetti che più e meglio di prima dovranno essere orientati ai risultati e non alla sola spesa, dunque puntare sulla qualità valorizzando le specificità dei territori. Per CGL e Will quattro sono le linee di intervento sulle quali concentrare progetti e risorse, lavoro e innovazione, ambiente, qualità della vita, istruzione e formazione. L'Irpina può diventare un crocevia dello sviluppo della regione, io ho provato a dire anche come, ma senza forzare, senza inventarci nulla, anche del mezzogiorno se però, voglio dire, si capisce che la specializzazione di alcune zone diventa l'elemento di coagulo perché il complesso del sistema territoriale possa migliorare di economie più vantaggiose per tutti e senza nessuno escluso. Qualche perplessità viene espressa sul progetto pilota Alta Irpinia, deve essere un esperimento che possa fare da modello per gli altri e non rimanere un caso isolato. Noi al tavolo dello sviluppo abbiamo posto con forza la candidatura dell'Irpinia per un progetto pilota. Noi riteniamo che quello sia pilota e quando uno è pilota si deve trascinare qualcos'altro dietro, è la punta avanzata di come si può fare sistema. Non significa che oltre quei 25 comuni non c'è nulla, significa che a partire da quello, su quell'area facciamo un esperimento di come si possono ottimizzare alcune attività, parliamo della formazione, delle risorse, parliamo dei presidi sanitari e sociosanitari. In quella zona si può fare questo esperimento perché a partire dal primo anno c'è questo finanziamento ma che si porta dietro una specificità. Chiaro che se in quella zona si fa un'esperienza del genere, in altra zona come quella del Valle Ufita si fa una discussione sulla reindustrializzazione, sulle altre zone invece che vivono opportunità e difficoltà diverse. Se pensiamo a quello che dicevo del Valle di Raul e Baianese dove aumentano i nati, aumentano i giovani però non c'è la presenza di centri di produzione e di aggregazione culturale, scolastici e quant'altro perché i giovani possano vivere quel territorio. All'iniziativa non ha partecipato la CISL da tempo ormai, l'unità sindacale è in crisi ed anche in Irpinia i rapporti si sono deteriorati, anche se Simeone preferisce tenere bassi i toni della polemica. Si nota l'assenza della CISL a quest'iniziativa? No, guardate, non c'è nessuna vena di polemico escludendo della CISL. Noi abbiamo cominciato questa riflessione sulla economia del territorio con lo sciopero nazionale fatto da CGL e CISL e anche da CGL e Will e anche in queste ore stiamo continuando, avete sentito anche la valutazione che noi facciamo sulla riforma costituzionale, secondo me è un attentato alla gestione economica del Paese. La CISL in quei periodi ha fatto un'altra valutazione, noi stiamo continuando a fare esattamente quello che riteniamo sia utile per il Paese e offriamo delle riflessioni di merito, non c'è nulla di posizionamento né politico né altro.